Un argomento adesso col periodo estivo, poi i giorni festivi, le varie qualità, l'orario dei negozi, ecco, io ne ho già parlato, voi sapete, personalmente ritengo che non dovrebbe esserci tanta burocrazia, io sono in questi casi per la deregulation la più completa, modello Stati Uniti, sapete che io ho molta stima per tanti aspetti, non tutto sia ben chiaro, degli Stati Uniti, questo è uno dei modelli positivi, secondo me, ovvero sia ogni negozio fa un po' ciò che vuole, apre quando vuole, quanto vuole, vuoi stare aperto 24 ore su 24, stai aperto 24 ore su 24, unico secondo me limite dovrebbe essere una differenziazione, chi vuole tra l'orario estivo e l'orario invernale, perciò ogni negozio mette lì il suo orario messo, bisogna rispettarlo naturalmente, ed è se è orario estivo, dal al questo esercizio farà questo orario, dal al farà quest'altro, oppure questo esercizio, questo negozio fa sempre il seguente orario, vuoi aprire 3 ore al giorno, apri 3 ore al giorno, vuoi aprire 24, vuoi vivere lì dentro, negli Stati Uniti c'è tanta gente che ha la famosa a casa bottega, nel retro dorme, vive, mangia e davanti è il negozio, quindi è sempre aperto, giorno e notte si alternano i componenti della famiglia. Io semplificherei in questo modo, ognuno che faccia un po' ciò che vuole, ciascuno girando sa ormai come sono gli orari e di conseguenza potrebbe comportarsi.